Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla 12 dove sempre a causa del traffico intenso si segnalano code a Rosignano Barriera in direzione Rosignano e rallentamenti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in entrambe le direzioni. Treni si ricorda che per attività di consolidamento della sede ferroviaria sulla linea Grosseto-Siena la circolazione rimarrà sospesa tra Grosseto e Buon Convento fino al 21 settembre, riprogrammazione con servizio corse bus sostitutive. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!